Meno 60% di emissioni rispetto ai livelli del 1990 da raggiungere entro il 2030. Il Parlamento europeo in seduta plenaria ha votato per un obiettivo di riduzione delle emissioni del 5% in più rispetto a quanto aveva proposto la Commissione europea, che aveva fissato il target al 55%. Attualmente l'obiettivo di riduzione delle emissioni nell'Unione per il 2030 è del 40% rispetto al 1990. Il voto del Parlamento rappresenta un forte segnale verso l'obiettivo ultimo, fare in modo che i Paesi dell'Unione diventino climaticamente neutri entro il 2050. Con 392 voti favorevoli, 161 contrari e 142 astenzioni, il Parlamento ha adottato il suo mandato negoziale sul clima. Una vittoria per l'aurodeputata S&D, Gitte Guteland, che ha diretto il rapporto sulla nuova legge sul clima dell'Unione. È davvero un grande cambiamento, è un momento histórico e è un nuovo capito che stiamo a scrivere insieme nella prossima decada. Questo planeto è suonare, e i ragazzi, 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 i ragazzi. Ora ho il compito di negoziare con il Consiglio e la Commissione europea, comunica la deputata attraverso i social network. La nuova legge sul clima, una volta in vigore, sarà vincolante per gli Stati membri al fine di raggiungere l'ambito traguardo delle emissioni zero nel 2050. Un obiettivo ambizioso che non sarà di facile realizzazione per alcuni paesi dell'UE. Nel frattempo la palla passa all'altro ramo legislativo del Parlamento, il Consiglio dell'Unione europea. Successivamente saranno poi avviati i negoziati con i paesi membri. I deputati hanno anche richiesto che la Commissione, la quale entro il 31 maggio 2023 dovrà presentare una tabella di marcia per il raggiungimento della neutralità, proponga anche un obiettivo intermedio per il 2040. Le eurodeputate hanno infine proposto l'istituzione di un Consiglio europeo per i cambiamenti climatici che valuti i progressi compiuti e hanno richiesto agli Stati membri l'eliminazione graduale delle sovvenzioni, dirette e indirette, ai combustibili fossili entro il 31 dicembre 2025. La grande maggior parte dei nostri cittadini vogliono agliare per faceare la crisi climatici climatici. È i cittadini che ci chiedono di noi, anche nel medio della pandemia, quando sono molto preoccupati per la salute, quando sono molto preoccupati per i lavori, ma ancora vedono che la crisi climatici climatici è qualcosa che vogliono agliare. Nostri cittadini comprenderanno che questo è un problema che solo possiamo affrontare a un livello europeo, e che Europa ha bisogno di prendere la liderazione come Europa. Iniziali member state non più siente della comunità nella necessità di creare. Grazie!